salve a tutti questo è un video nuovo su altri giocattoli ormai di qualche anno fa è l'unica cosa che mi sono ricordato quando sono andato a cercarli e che nelle scatolari gli ho messo dello scotch marrone purtroppo ho rovinato tutte le scatole adesso faccio vedere di cosa si tratta purtroppo le scatole erano messe abbastanza bene sono i micronauti se li faccio vedere di fianco è messa bene ma poi dopo nelle altre parti è messa piuttosto male la scatola è rovinata questo è un micronauta si chiama oberon come vedete nella scritta adesso non l'ho guardato non è che di quale anno sia si guardando su internet magari riesco a trovarlo c'era questo qui e ce n'era anche un altro adesso vi faccio vedere che era il suo cavaliere il cavaliere si chiama force commander anche lui era la stessa cosa le scatole le ho praticamente rovinate mettendoci mettendoci dallo scotch chissà perché ce l'ho messo in soffitto magari pensavo fosse roba che chissà poi parole questi sono i due personaggi che fra poco aprirò e vi farò vedere